Il nostro viaggio in Molise quest'oggi ci porta ad Agnone in occasione della terza edizione del prodotto topico. Ben 50 comuni partecipanti in questa finale e oltre 60 i prodotti topici che appunto caratterizzano le tre regioni del Molise, Abruzzo e appunto la Campania. Allora venite con noi in questo viaggio dedicato sicuramente all'enogastronomia, noi cominciamo da qui. Grazie. Grazie. Siamo con Remo Gentile, presidente della Prologo di Castelli Giudice, in questa terza edizione del prodotto topico dove protagonista per voi in rappresentanza c'è la pallotta caciova. Sì, non poteva essere che questa perché è un prodotto della nostra terra, è un piatto dei nostri nonni che abbiamo così riportato alla grande ormai da 27 anni perché la 27esima edizione della saga l'abbiamo fatta proprio quest'anno. A quanto pare è un prodotto che piace tantissimo perché è molto genuino, è un impasto di pane, formaggio e uova, ormai funzionerà tanto e quindi non poteva che essere coronato questa sera con questa terza edizione del prodotto topico. Molto bene, abbiamo qui tante signore che si è portato dietro proprio per dimostrare la genuinità del prodotto, in qualche modo si sa che le signore sono quelle poi, le casalinghe che si danno da fare per fare appunto questo prodotto. Sì, certamente, sono le stesse che poi le hanno preparate, quest'anno la quantità è stata molto alta, ne abbiamo fatte in totale 3.800 perché c'è stata anche la sagra, questa sera anche tantissime, è vero che sta funzionando, stanno finendo quindi significa che il prodotto va alla grande anche questa sera, non solo alla sagra. Ed eccoci qui nello stand che ovviamente fa da padrone di casa, naturalmente Agnone, che si presenta con le proprie tipicità sicuramente ricche, buone, gustose che poi sono famose in tutto il Molise, quali? Allora, innanzitutto i formaggi, cioè Agnone è conosciuto non solo in Molise, in Italia ma anche all'estero proprio per i formaggi perché qui viene prodotto il vero caciocavallo doc e importato anche all'estero. Per cui stasera abbiamo messo nel piatto quelli che sono i formaggi principali che descrivono la nostra realtà, il caciocavallo, abbiamo la stracciata, abbiamo poi le mozzarella e la ricotta della masseria, il casevicio qui vicino sempre. Ecco Chiara, come sta andando? Il pubblico apprezza, diciamo, queste gustosità? Assolutamente sì, infatti il nostro stand sta andando molto bene, quest'anno abbiamo introdotto anche una novità perché oltre ai formaggi viene prodotto proprio qui in Agnone un liquore particolare che si chiama liquore di Agnone, quindi abbiamo fatto questo abbinamento, oltre liquore e formaggio abbiamo anche un abbinamento con il miele che viene prodotto proprio da un produttore locale che si chiama Marco Cacciavillani, quindi abbiamo deciso di mettere in mostra quanto è peccelante. E devo dire che sta andando veramente bene, il successo è tantissimo, nonostante qui noi siamo a casa, però devo dire che insomma il pubblico sembra molto soddisfatto. Ecco Marilena, i formaggi sicuramente sono un argomento diciamo che accompagnano sempre un po' l'antipasto e che è difficile da rinunciare, qui in questo caso si conferma il tutto. Quella piastra, in maniera fresca, insomma sono davvero uno tira l'altro. Certo, non possono mancare i nostri piatti. Beh, allora vi lasciamo lavorare, continuate così e buona serata. Grazie, buona serata anche a voi. Siamo con Paolo Lombardozzi, cavaliero onorario delle patate tonne, giusto? Sì, giusto, buona sera. Allora, Comune di Roccasicura siete stati appunto insegnati di questa onorificenza, se vogliamo. Come è nata questa iniziativa, ma soprattutto questo è un piatto che rispecchia proprio la vostra tradizione? Assolutamente, innanzitutto è una bellissima manifestazione, più che altro il cibo nella nostra cultura sicuramente è motivo di aggregazione. E questo è il nostro piatto, le patane tonne, che affonda le radici nella nostra tradizione, diciamo che era uno dei piatti che venivano mangiati dai contadini nei campi, uno di quei piatti bei sostanziosi. Che cosa si caratterizza, com'è fatto oltre per le patate? Allora, qui sono i cinque ingredienti principali, che sono pancetta, salsiccia, peperoni, cipolla e patate. Il piatto prende il nome dal fatto che la patata non viene sfaldata, quindi è tonda, e quindi nel nostro dialetto patane tonne. E' un effetto giusto una pietanza per la colazione? Esatto, loro la usavano così. In quanti siete oggi? Ma oggi siamo qui con la Proloco, poi anche per le persone che collaborano con il Comune, altre associazioni, diciamo che collaboriamo tra tutti. Colto in flagrante, Domenico Dinunzio, allora come sta andando una manifestazione, quella di questa sera, che manifesta quanto sia importante l'enogastronomia e il turismo per una regione come il Molise? Credo che la presenza di tanta gente dimostri proprio questo. Il nostro è un Molise particolare, ma sono ricette del Molise, dell'Abruzzo, anche parte della Campania e qualcuno anche della Calabria. E' un progetto che si sta portando avanti proprio per riscoprire le bontà e le genuinità dei nostri comuni, dei nostri piccoli borghi, sui quali dobbiamo investire parecchio, non solo, è soltanto a livello turistico ed enogastronomico, anche per la qualità della vita, dei nostri vecchietti, delle nostre famiglie, delle nostre origini. Credo che da questo punto di vista non possiamo che notare questi che magari con tanto spirito di sacrificio riescono a produrre ancora delle ricette genuine e credo che ci fanno pregustare delle cose ottime. Io sto mangiando un formaggio di teramo fritto che mi piace particolarmente e quindi mi sono lasciato tentare. Grazie. E allora buona serata. Grazie anche a voi. Siamo in compagnia del giornalista scrittore Nicola Mastronardi in questa terza edizione del prodotto topico. Tanti sindaci intervenuti in questo convegno che apre questa edizione e come ha detto lei un'unione di capi di comunità italiche in qualche modo presenti oggi ad Agnone. Vedere tutte queste fasce che sono il simbolo di tutti i sindaci di questa grande area italica riunita qua stasera Agnone è stata un'emozione. È come vedere, rievocare una riunione di MEDIS che erano i capi delle Tauto sannite. In questo caso è in nome di prodotti agroalimentari ma questa riunione e questo territorio scelto dagli organizzatori ha fondamenta storiche straordinarie proprio a fondare le radici nella storia degli italici. Sanniti in testa ma non solo. Quindi Abruzzo, Campania, anche Marche e Molise uniti intorno al prodotto topico ma uniti da una storia millenaria comune che deve essere assolutamente riscoperta e che una volta riscoperta darà dignità di nuovo, dignità storica ai nostri territori e sarà un elemento identitario anche dei prodotti. Infatti lei faceva riferimento ad una foto, una fotografia risalente al V secolo a.C. su com'era l'Italia in quel periodo e l'Etnos che ricongiungeva tutte queste regioni. Sì, sì, una fotografia storica, nel senso una mappa che dai Piceni e gli Umbri scende fino ai Lucani che ha come baricentro proprio l'Alto Molise, il Molise in particolare. Ricordiamoci che il centro e il cuore della nazione sannita, la più forte fra tutte le Tauto assitaliche, era il Sannio, il Sannopentro con Bovaianum capitale e che qui insieme ai Marsi è nata uno Stato federale che si chiamò Italia nel 91 Anticristo, altro episodio storico straordinario che gli italici hanno regalato all'inizio della nostra nazione. Ha dato anche un altro accenno importante ad un progetto che è quello del Centro Studi sulle Antichità Italiche che appunto sarà istituito a brevissimo. Speriamo prenderà corpo a breve, il Centro Studi sulle Antichità Italiche avrà sede in Agnone, speriamo che il professor La Regina lo voglia dirigere, glielo abbiamo proposto, stiamo parlando e cercherà di approfondire gli studi e anche gli scavi archeologici in tutta l'area italica ma per quanto ci riguarda soprattutto nel Sannio, nel Sannio storico, cioè il Molise e il vicino Abruzzo.